non farò il nome del luogo né quello della persona è accaduto in un posto lontano molto lontano di qui su una costa fertile e caldissima sin dal mattino percorrevamo la riva coltivata lungo il mare azzurro inondato di sole i fiori spuntavano quasi accanto alle onde onde lievi miti che cullavano faceva caldo un caldo molle profumato di terra grassa umida e feconda sembrava di respirarne i germogli mi avevano detto che quella notte avrei trovato ospitalità nella casa di un francese che abitava nel punto estremo del promontorio in un aranceto chi era ancora non lo sapevo era arrivato all'improvviso dieci anni prima aveva acquistato la terra piantato le vigne e seminato il grano aveva lavorato con passione e furore poi aveva cresciuto la sua proprietà di mese in mese di anno in anno e fertilizzando il terreno rigoglioso e vergina sarà costruito una fortuna con la sua infaticabile opera di agricoltora eppure dicevano che lavorasse ancora la terra salzava all'alba percorreva i suoi campi fino a sera in una continua sorveglianza pareva perseguitato da un'idea fissa torturato dall'insaziabile desiderio del denaro che niente riesce a calmare adesso era molto ricco il sole era al tramonto quando arrivai alla sua abitazione questa era situata all'estremità del promontorio tra gli aranzi era una vasta casa quadrata molto semplice che dominava il mare mentre stavo avvicinandomi sulla porta apparve un uomo con una lunga barba lo salutai e domandai ospitalità per la notte mi porse la mano e sorrise entrate signore consideratevi a casa vostra mi accompagnò in una camera e con la perfetta signoridità e la cortesia semplice di un vero uomo di mondo mise a mia disposizione un servitore e mi lasciò dicendomi ceneremo quando vorrete scendere e cenammo infatti l'uno di fronte all'altro su una terrazza che affacciava sul mare da principio gli parlai di quella regione così fertile lontana e sconosciuta lui sorrideva e mi dava risposte vaghe sì questa è una buona terra ma nessuna terra può piacere lontano da quella amata rimpiangete la Francia? rimpiango Parigi e perché non ci tornate? oh ci tornerò? pian piano ci mettemmo a discorrere dei francesi dei grandi viali parigini lui mi interrogava come uno che ha già conosciuto tutto e mi faceva molti nomi familiari sul marciapiede del vaudeville chi va abitualmente da Tortoni adesso? sempre le stesse persone tranne quelle che sono morte lo guardavo attentamente colpito da un vago ricordo avevo di certo già veduto quel volto da qualche parte ma dove? quando? sembrava stanco per quanto forte e malinconico per quanto deciso sul petto gli ricadeva la gran barba bionda ogni tanto la ferrava sotto il mento e stringendola col pugno chiuso la faceva scivolare fino alla punta leggermente stempiato aveva sopracciglia folte e grossi baffi uniti ai peli delle guance dietro di noi il sole stava calando nel mare diffondendo sulla riva una bruma di fuoco gli aranci fioriti esalavano il loro profumo violento e delizioso nell'aria della sera lui vedeva solamente me e con lo sguardo fisso sembrava volesse rintracciare nei miei occhi e in fondo al mio animo la lontana ben nota e amata immagine del vasto marciapiede ombreggiato che va dalla chiesa della Madeleine alla Rue du Rouault conoscete Baudreuil? sì adesso ha tutti i capelli bianchi e la Rie d'Amie? lui è sempre lo stesso e le donne? parlatemi delle donne per esempio conoscete Suzanne Vernet? sì ha ingrassata troppo una bellezza finita ah e Sofia Stier? è morta povera ragazza e forse conoscete ma si interruppe di colpo poi continuò con una voce diversa e più pallido nel volto no è meglio che non parli di queste cose mi distruggono per cambiare il corso dei suoi pensieri si alzò volete che rientriamo? come volete mi precedete nella casa le stanze del piano terra erano enormi nude tristi sembravano disabitate sui tavoli sui tavoli c'erano piatti e bicchieri lasciati lì dai domestici dalla pelle scura che di continuo girovagavano nell'ampia dimora sul muro a dei chiodi erano appesi due fucili e negli angoli si vedevano zappe canne da pesca foglie di palma seccate oggetti di ogni tipo accattastati a caso da chi rientrava perché fossero a portata di mano da chi usciva secondo la necessità dei lavori il mio ospite sorrise è il rifugio o meglio la tana di un esule disse ma la mia camera è un po' più in ordine andiamo là entrando in quella camera pensai d'essere nel magazzino di un rigattiere tanto era gremita di oggetti di quelle cose disparate e bizzarre e varie che possono costituire tanti ricordi alle pareti due bei disegni di pittori famosi arazze, armi spade e pistole poi proprio al centro del pannello più importante un quadrato di raso bianco con una cornice dorata sorpreso mi avvicinai a osservarlo e vidi uno spillone da capelli puntato al centro della stoffa lucida il mio ospite mi posò la mano sulla spalla mi disse sorridendo quella è la sola cosa che guardo qui la sola che vedo da dieci anni a questa parte Prudhomme proclamava questa sciabola rappresenta il più bel giorno della mia vita e io posso dire questo spillone è tutta la mia vita io cercavo una risposta qualsiasi finì col dire avete sofferto a causa di una donna lui rispose seccamente soffro ancora come un dannato ma venite qui sul balcone poco fa mi è venuto un nome alle labbra un nome che non ho avuto il coraggio di pronunciare in quanto se mi aveste risposto morta come avete fatto per Sophia Stier mi sarei ucciso oggi stesso eravamo su un vasto balcone da dove si vedevano due golfi una a destra e un altro a sinistra chiusi tra alte montagne grigie era l'ora del crepuscolo in cui il sole scomparso illumina la terra solo con i riflessi del cielo ricominciò a parlare è ancora viva Jean Delimour i suoi occhi erano fissi nei miei e pieni di un'angoscia terribile sorrisi altro che ed è più bella che mai la conoscete sì esitò la conoscete intimamente no mi prese la mano e disse parlatemi di lei ma non posso dire nulla su di lei è una delle donne o meglio delle mantenute più graziose e più corteggiate di Parigi fa una vita piacevole degna di una principessa è tutto qui l'uomo mormorò io l'amo ma sembrava dicesse sto morendo poi all'improvviso si confidò per tre anni la nostra è stata una vita terribile e magnifica sono stato sul punto di ucciderla cinque o sei volte e lei ha tentato di trafizzermi gli occhi con quello spillone che avete veduto ecco guardate questo puntino bianco sotto l'occhio sinistro ci amavamo come potrei spiegare la nostra passione non la comprendereste deve pur esistere un amore semplice nato dallo slancio di due cuori e due anime ma esiste anche un amore atroce crudele torturante nato dalla lotta mortale di due esseri diversi che si odiano e si adorano in tre anni quella donna mi ha condotto alla rovina aveva un patrimonio di 4 milioni che lei ha dilapidato tranquillamente con la sua aria serafica un patrimonio che lei ha divorato con questo sorrisetto dolcissimo che pareva caderle dagli occhi sulle labbra la conoscete vero ha qualcosa di irresistibile cosa non lo so forse quegli occhi grisi il cui sguardo trafizza e rimane nell'anima come la punta di una frezza o piuttosto quel sorriso dolce indifferente e seducente che resta sul viso come una maschera la sua grazia lieve penetra poco a poco si sprigiona da lei come un profumo dalla sua schiena lunga appena in movimento quando cammina perché lei sembra scivoli più che camminare dalla sua voce un poco strisciata e melodiosa che sembra la musica che accompagna il suo sorriso o si sprigiona dal suo gesto dal suo gesto sempre moderato sempre esatto capace di inebriare gli occhi tanto è armonioso per tre anni non ho veduto che lei sulla terra come ho sofferto mi tradiva con tutti perché per niente così per il gusto di ingannarmi e quando venivo a saperlo quando la trattavo da sgualdrina lei lo confessava serenamente siamo forse sposati diceva da quando sono qui ho pensato tanto a lei che ho finito col capirla quella donna è Manon Lescaux rediviva è Manon ma non può amare senza tradire è Manon per cui amore piacere denaro sono una cosa sola t'acqua e poi dopo qualche minuto concluse quando ebbi buttato via il mio ultimo franco per lei mi disse con gran semplicità voi capite caro che non posso vivere d'aria e di sole vi voglio molto bene vi amo più di qualsiasi altro uomo ma bisogna pur vivere io e la miseria non riusciremo mai ad andare d'accordo eppure se vi raccontassi com'era atroce la mia vita accanto a lei quando la guardavo avevo voglia di ammazzarla e anche di baciarla quando la guardavo provavo un bisogno furioso di aprire le braccia di stringerla e di strozzarla in lei dietro i suoi occhi c'era qualcosa di inafferrabile di perfido che mi costringeva ad odiarla forse è per questo che l'amavo tanto la femmina la femmina da odiare ossessiva e fatale era presente in lei come mai in nessun'altra era permeata di femminilità come di un fluido inebriante e velenoso era donna più di qualsiasi altra donna ecco quando uscivo con lei posava gli occhi su tutti gli altri uomini e in un modo tale che pareva si volesse concedere a tutti solo con lo sguardo questo fatto mi esasperava e mi faceva diventare il suo schiavo e appartenevo sempre di più soltanto passeggiando per la strada quella creatura apparteneva a tutti contro la sua e la mia volontà per il solo fatto che esisteva anche se si muoveva in modo modesto e irreprensibile mi capita era una tortura a teatro al ristorante mi sembrava che la possedessero davanti a me e appena la lasciavo sola erano altri a possederla sono dieci anni che non la vedo e l'amo più che mai la notte aveva invaso la terra un potente fluio di aranci fluttuava nell'aria gli dissi la rivedrete lui rispose certo posseggo qui tra il valore dei terreni e quello che ho già in contanti sette o ottocento mila franchi quando avrò raggiunto il milione venderò tutto e ripartirò sarà una somma sufficiente a trascorrere un anno insieme a lei un intero bellissimo anno e poi poi addio la mia esistenza sarà conclusa chiesi ancora ma dopo dopo non lo so finis le chiederò forse di assumermi come servitore come cameriere personale